Buonasera a tutti ed eccoci qui con il nostro consueto video serale. Nella giornata di ieri, come ho già detto, ho recuperato sia il Topolino della settimana che il Dilan Dog del mese. Tuttavia, ho dimenticato i due albi al lavoro, di conseguenza sono riuscito ad averli soltanto oggi e quindi le recensioni le ho rimandate. Mi occuperò di Topolino che ho letto, Dilan Dog invece lo rimanderò domani sera, tanto comunque è una serie mensile quindi c'è sicuramente un maggior margine, un margine maggiore insomma per discuterne. Topolino essendo già venerdì volevo assolutamente parlarne perché tra pochi giorni uscirà il nuovo numero e quindi mi sembrava corretto fare così. Allora, bando alle ciance, Topolino 3497, quindi siamo a meno 3 dal 3500 e soprattutto siamo nella prima parte della nuova avventura sulla spada di ghiaccio. Infatti la copertina richiama quanto seguirà ed è tra l'altro molto bella, mi piace tantissimo, è una delle più belle copertine, forse la più bella da quando ho ricominciato a comprare il Topolino in edicola. In seconda di copertina si parla del destino di Paperoni che è una nuova saga che interesserà lo Zione in occasione dei suoi 75 anni di vita editoriale e poi il disegno di Silvia Ziche dedicato chiaramente alla spada di ghiaccio. Nella lettera di Alex Bertani chiaramente si fa un grande riferente alla spada di ghiaccio la cui Genesi addirittura cominciò nel 2018 quantomeno alla testa degli autori e poi tutto il resto, quindi anche il paperone e il countdown che ci porterà al 3500. Disegno quindi copertina in bianco, il solito sommario che sapete che mi piace tantissimo e poi cominciamo con la spada di ghiaccio. Allora, premettiamo, io ho letto la prima saga in tempi molto lontani, adesso non la possiedo, ho soltanto un episodio, le altre non le credo di non averle mai lette, quindi non sono molto ferrato nell'argomento, proprio per questo ho trovato piacevolissima la descrizione iniziale in questo primo episodio di quattro in cui sostanzialmente si fa un prologo ed è molto interessante perché permette appunto di ricollegare la storia ai giorni nostri, diciamo così. I disegni sono soggetti scenizzatori di Marco Nucci e disegni di Cristian e Canfaila come erano già stati presentati il numero scorso, quindi sono chiaramente cambiati gli autori, ma la storia almeno in questa prima parte mi ha convinto. È un fantasy, quindi come sapete a me il fantasy non fa impazzire, però questa è una storia epica e si legge sicuramente con grande piacere, anche perché quando sono capitati dei fantasy nel mondo Disney con Topolino e Pippo mi sono sempre piaciuti. Allora, si utilizza l'incipit in cui invia questo menestrello che racconta sostanzialmente, questo cantastore insomma che racconta gli abitanti del villaggio di Ululand, praticamente i quattro episodi passati. Quindi come praticamente Topolino e Pippo fossero arrivati da loro e quindi tutti gli episodi precedenti alla spada di ghiaccio. Quindi viene fatto questo lunghissimo incipit. Topolino e Pippo è il chiamato cugino di Alf, che è il protagonista della saga, in realtà non è Topolino, e Topolino è il suo scudiero alle grandi orecchie. E quindi viene raccontata praticamente il primo episodio, che è quello famoso del 1982, perché questo nuovo quinta stagione, chiamiamolo così, quinto episodio, esce in ricorrenza al quarantennale del primo. E quindi viene raccontato tutto, tra cui anche il nuovo nemico, chiamiamolo così, che è questo Atro, che è un potente e malvagio stregone, che sostanzialmente ha riconquistato ha riconquistato sostanzialmente l'Argar. Niente, e quindi praticamente viene fatto da questo menestrello questo racconto, in cui riassume brevemente i quattro episodi principali, e poi ci troviamo, diciamo, a giorni nostri, in cui vi è questo bambino, che si chiama Igor, che è col nonno, che ha ascoltato questo messaggio, questo racconto del menestrello, che nel frattempo è stato arrestato, e quindi ha intenzione di far qualcosa. E poi, non vi so raccontare la storia, egli si troverà a Topolinia, in cui vi sono Pippo e Topolino, che stanno preparando il pranzo di Natale, e dice loro appunto di recarsi nuovamente con lui, nell'Argar, per, insomma, per liberare, per liberare il suo popolo. E quindi, in queste belle 40 pagine, molto ben disegnate, oltre che ottimamente sceneggiate, comincia il primo episodio di questa nuova avventura della spada di ghiaccio. Ho raccontato in maniera piuttosto superficiale, perché, un poco, perché, come ho detto, non sono ferratissimo sui quattro episodi precedenti, un po', perché non voglio togliere il piacere di lettura. Diciamo che è una storia che fa da prologo, in cui viene raccontato appunto quanto è successo nei quattro episodi passati, ed è molto interessante per me, che sono uno di quelli che non conosce tutta la saga per bene, e poi vi è appunto l'inizio della nuova avventura. Assolutamente interessante, non volevo rileggere la puntata successiva. Qui viene appunto pubblicizzati i cartonati sulla spada di ghiaccio che stanno uscendo, e poi si passa alla terza puntata del Calisota World Cup. Anche qui vi è l'anticipazione, quindi riassunto tramite immagini, e sostanzialmente qui si racconta come mai qui, credo che sia qui, conosce, conosca l'allenatore della squadra che dovevano affrontare ai quarti di finale, perché se ricordate l'episodio precedente, nell'ultima vignetta si vede qui che è spaventato da questo individuo. E poi comincia la Fridoni World Cup 2022, episodio 3, scherzetto che si chiama scherzetto con fuga in Mi B. E sostanzialmente vi sarà quest'episodio in cui vi sarà la nostra squadra che si affronterà con quest'altra, con questi altri avversari, che si chiamano Proemia, che hanno la caratteristica di giocare al passo di musica, seguendo degli schemi musicali, in quanto appunto il loro coach è un famoso illustrissimo direttore d'orchestra. E questa storia sarà un continuo riferimento alla musica che verrà utilizzata come contromossa da parte del Fridonia per sconfiggere gli avversari. E il grande protagonista sarà qui, se non erro è qui, sì, che non è giocatore ma è il fotografo della squadra ma che conosce appunto il il maestro, il loro, il coach della squadra avversaria per dei trascorsi che non vi so raccontare. ovviamente non vi racconto il finale ma immagino che capirete come finirà e alla fine vi sarà un prologo in cui si racconta, un'anticipazione in cui si racconta il prossimo avversario della semifinale nel terzo episodio che sarà anche il penultimo. Allora, questa saga di della Calisota World Cup come dicevo nel primo episodio due settimane fa non è che mi avesse fatto impazzire però adesso onestamente sta crescendo perché comunque nonostante sia una storia di ambientazione calcistica anche piuttosto lunga perché vedo altri recensori in rete che conoscono molto più di me Topolino negli ultimi anni sono abbastanza appesantiti da questo da questo mondo del Calisota World Cup perché pare che vada avanti da parecchio tempo con le eliminatorie e poi appunto con la Coppa io che sono un neofita invece tutto sommato gradisco questo 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 tipo di storia chiaramente ormai mi aspetto che si arrivi alla finale fra due settimane e che poi non se ne parli più almeno per un bel po' cioè non posso neanche augurarmi io stesso che ogni settimana ogni due tre settimane vi sia un episodio il Calisota perché insomma poi comincia a diventare un po' pesantuccio comunque vedremo questo episodio l'ho gradito soprattutto per 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 riferimento musicale andiamo avanti velocemente articolo su 58 anni da quando l'Italia mangiò il suo primo satellite nello spazio questo è interessante e poi abbiamo un altro episodio di Legri Messieri Paperino Telefonia Immobile in questo caso lavorerà sempre per lo zione prima in un negozio di telefonia di proprietà chiaramente di Paperone e poi in un call center quindi anche in questo caso abbiamo una rivisitazione in chiave moderna dei mestieri di Paperino che è attualissimo e quindi anche un po' una critica sociale perché si rispecchiano tutti tutte le problematiche da svolgere dei lavori del genere perché comunque sono dei lavori un po' particolari che vessati e anche da un certo punto di vista fastidiosi e i lavoratori vengono anche sfruttati però insomma non voglio far politica o critica sociale leggete la storia perché comunque è interessante la testimonianza di come comunque Topolino non sia più destinato soltanto a un pubblico infantile Pasoli Topolino nuovamente che è uscito qualche settimana fa e che è veramente bello sono sempre più deciso che se lo troverò da qualche parte me lo prenderò miaucro a nechefeline quindi altro episodio di Malachia basato sul fatto che come gli animali domestici non capiscano il linguaggio degli umani in questo caso paperi ma comprendono perfettamente le parole chiavi come croccantini coccole cucce e così via sono molto poetiche queste storielle con Malachia sono veramente sì hanno un tocco di di poeticità molto carine qualche redazionale sugli animali cominci a esserci già qualche riferimento non troppo evidente ma comunque c'è al Natale perché ormai siamo lì ultima storia quindi le storie sono un po' meno qua oddio sono sempre cinque però tre sono molto lunghe questa Amelia è l'insolito deposito questa è una bella storiella sull'ennesimo tentativo di Amelia di conquistare il deposito o meglio di impadronirsi al numero uno utilizzando un escamotaggio che leggendo la storia può sembrare banale perché farà un sortileggio sostanzialmente un incantesimo sul deposito e chiederà a Paperone liberarlo per liberare il deposito che lui le consegni la numero uno insomma apparentemente è banale come trama ma se poi ci penso ho letto decine di storie di Amelia con Amelia protagonista e non è mai venuto in mente a nessuno di utilizzare questa narrazione del ricatto da parte della nostra fattucchiera Paperone il deposito in cambio alla numero uno tra l'altro Paperone chiederà anche aiuto ai Bassotti e poi alla fine come ovvio che sia riuscirà a vincere e fregherà tutti sia Amelia che Bassotti stessi una storia molto carina ripeto leggendola può sembrare paradossalmente non banale ma l'idea che viene in mente è ma com'è che non ci hanno mai pensato prima comunque assolutamente promossa ecco qualche riferimento al Natale vedete il nipotino di Giorgio Cavazzano che ha vinto un premio come disegnatore chissà se magari fra trent'anni ce lo troveremo sulle pagine del topo relazionali cos'altro si trova in Edicola infine anticipazione il 3498 secondo episodio della spada di ghiaccio più tutte le varie storie Fridone che è arrivato ormai alla semifinale altri leghi che si è di Paperino più un'altra credo che sia di Clarabella poi una di Orazio che è interessante ogni tanto ci sia anche lui e poi l'ultima sorella di Gamba di Legno che tra l'altro c'è anche qui chiaramente in cui col suo col suo fido sgrinfia si trova a a rapinare una banca quando in realtà voleva rapinare una pasticceria perché Trudy lo lascia a stecchetto cartonati e la spada di ghiaccio e poi il gioco è il Calisota Futuro Club già in Edicola come allegato al topo niente questo è il topolino 3497 uscito due giorni fa che dire ragazzi a me topolino piace non c'è niente da dire ribadisco tutte le settimane mi piace sempre di più cioè le storie sono di qualità per esempio in questo numero io non ho trovato assolutamente una storia che sia più sottotono magari il piacere personale può spiacerne più una piuttosto che l'altra ma sono tutte storie comunque di grande qualità anche di critica sociale senza spingermi a fare paragoni troppo troppo impegnativi però sono belle è un trattenimento è piacevole da leggere e da adulto lo sto apprezzando veramente tanto perché non contiene soltanto la poeticità Disney ma anche ci vedo appunto più un contenuto un messaggio d'adulto che non trovavo da bambino che comunque non trovavo quando non trovavo neanche adesso quando leggo qualche vecchia storia questo non vuol dire che Topolino sia meglio di prima assolutamente però diciamo si è saputo adeguare ai tempi in maniera assolutamente egregia niente promosso a pieni voti questo numero tutte le storie sono belle anche quella del Calisota che ripeto magari poi alla lunga possono anche stancare queste saghe però io sono ancora all'inizio della mia riscoperta di Topolino e quindi mi va tutto decisamente bene sono assolutamente soddisfatto compratelo anche perché ricomincia la saga della spada di ghiaccio che si concluderà nel 3500 e uscirà fra tre settimane assolutamente promosso vi saluto domani ci vediamo con questo e tra l'altro vi dirò anche due parole su cosa penso sull'app della Sergio Bonelli uscita un po' di giorni fa per leggere insomma con l'abbonamento le storie di alcuni personaggi un abbraccio vi ringrazio e iscrivetevi al canale buonanotte e iscrivetevi al canale